Rispondo brevemente a una balanga di messaggi che ricevo in privato su dove trovo i miei cappellini e le mie magliette Ragazzi dai, ormai l'ho già detto, beware the bus player Questi cappellini sono fantastici, le magliette sono fantastici Come anche questa maglietta, molto molto carina, che l'ho presa sempre da lui, però l'altro negozio, quindi Cobain Fabrizio Mangus, cercate Fabrizio Mangus Allegri su Facebook Fornitore ufficiale di magliette strafighissime Che naturalmente io pago, quindi non sono indorso di niente Purtroppo tutto ciò che ho, io lo pago Aspetto con gloria qualcuno che mi regali qualcosa Vi prego, regalatemi qualcosa, vi prego, regalatemi qualcosa E non farò come molti che faranno Oh questo è bellissimo, finché non gli regalano qualcos'altro e fanno Oh quello è una merda, quest'altro è bellissimo Che comportamento veramente triste Comunque vabbè, questo è un altro discorso Per oggi quindi è tutto E alla prossima bimbi, ciao belli, ciao ciao